ok ciao a tutti ragazzi 5 minuti fa mi è arrivato un pacco con alcuni prodotti è arrivato tantissimo ora vi dico un po' prima salare trattamento viso che poi non c'è bene cocco mianghina sciampo per capelli questo è un po' cos'è sembia questo è l'acqua brinzante il mare il mare trattamento anti età l'acqua brinzante è un po' il mare crema usiamo l'acqua brinzante presiamo un po' Tanti matita, tanti mati, cesto, fucsia, e il fruzzante per le unghie. Ok. Ora vi faccio vedere un poco. Questa è la matita. Questo è il collettore. Questo è un intercattamento ampieta. Poi questo qua, che è il vadoo. Il tonico. Questa è un acqua bronzante per il mare. Al cocco. Poi il bagno a schiuma. Per i capelli. I capelli colati. Si. Questo qua. Il trattamento solare è di UV. La 50. La 50. E due chema. C'è. Questa è qua. Due chema. Si. Per i capelli. 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 sia piaciuto ci vediamo al prossimo video